L'educazione alimentare e ambientale di avvicinamento al mondo agricolo per educare i futuri cittadini e consumatori entra per la ventitresima volta nelle scuole, grazie a Coldiretti, che con il progetto Impariamo dall'agricoltura e il valore del cibo, organizza attività didattiche per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e di secondo grado. 23 volte grazie a chi oggi continua a sostenerci, innanzitutto la struttura di Coldiretti, perché attraverso i soci e i colleghi possiamo andare a comunicare quello che è un'eccellenza, che è il prodotto, il cibo e il territorio con gli stili di vita, riusciamo a andare nelle classi e nelle scuole, grazie ai nostri partner che da sempre ci sostengono e grazie anche a tutto il territorio perché non fa mai mancare il sostegno rispetto a queste iniziative. Prima in Italia a partire con l'educazione alimentare, Coldiretti oggi è in grado di educare i figli di chi 23 anni fa fu tra i primi scolari a seguire i loro corsi. È un tema che si trasmette di generazione in generazione, parte dai bambini per poi arrivare anche a fare in modo che i genitori siano in grado di portare avanti questo spirito, questa attenzione particolare che credo che sia un tema. Noi dobbiamo interrogarci su quello che sarà il futuro che diamo alle nostre generazioni, quindi come vogliamo pensare al futuro per le nostre generazioni e i nostri figli. I temi trattati sono di attualità oggi come allora. Il progetto di Coldiretti parte da molto lontano, parte da tutto il tema legato all'attenzione al cibo, al territorio e al cibo che sono un connubio importantissimo per l'Italia ma anche per Piacenza e soprattutto per Piacenza. Educazione alimentare, imparare a leggere le etichettature, riconoscere il cibo sano e genuino, la sua origine, combattere le limitazioni e il cibo sintetico. Grande attenzione su questi temi e continuiamo in questa direzione.